bene ciao a tutti ragazzi siamo nell'ultimo livello di crash bandicoot 2 siamo pronti a concludere la serie in bellezza siamo ancora dentro in questo postaccio che piace tanto a cortex e vediamo se non mi fanno fritto attenzione cosa andiamo di qua oh ma quante belle vite no allora dunque prima sono guardato sotto uh l'ho schivato adesso c'è questo tizio che fluttua al pelo sì ma qua ci vuole un tempismo che è allucinante comunque vabbè ce l'ho fatta gemma verde bella questa sezione con tutte le gemme colorate che abbiamo raccolto lungo il giorno molto bello andiamo sull'altra gemma ma siamo già arrivati ottimo ok vite vite più non posso andiamo adesso dai ma non male questo settore beh intanto che il crash torna lì vi avviso che ho finalmente cambiato le cuffie ne ho preso un paio un po' più buono spero che si senta un pochino meglio e poi vabbè quando arriverà il momento compreremo un microfono decente però adesso i soldi stanno a zero siamo arrivati in fondo intanto e vai con la gemma ecco andiamo avanti da qua veloci spacchiamo tutto aiuto ok no ok adesso aspettiamo un attimo quando la piattaforma sia spostata che cacchio ok ce l'ho fatta no c'era una vita ma porco ma porco ok dunque adesso andiamo su ok si non sono morto e qua come cavolo faccio qua non mi schiacciano così dai 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 checkpoint si via con i nitro e allora dunque adesso questo si apre qua si chiude questo qua il contrario ottimo splodi oh 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 permesso ma qua ci sono ancora questi tizi nooo ok oh la stavolta ce l'ho fatta prendiamo la maschera e andiamo sotto record bonus con calma qua questo è un livello dove ci vuole calma quel che ho visto bisogna aspettare il momento giusto tipo adesso eh vabbè ok aiuto aiuto scappa 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 ottimo sbucchiamo tutto adesso andiamo avanti ah 4 5 7 7 8 9 10 no no adesso ho perso il conto aiuto 5 6 7 8 9 10 ottimo più veloci via nooo vabbè almeno sono passato in colume di sotto si ma qua come faccio così si ce l'ho fatta ho messo nooo ma porco giuda ok aspettiamo facciamo fuori il tizio ottimo vai spacchiamo tutte le casse nitro cristallo ci sono ancora questi qui vai via nooo adesso qua come faccio così bene Gemma eccolo che ti ridi si il mio piano è quasi completo Crash Bandico e lo devo proprio a te edgy che sta succedendo? che cos'è? ci stanno facendo un segnale Crash Cortex non vuole usare i cristalli per opporsi all'energia dei pianeti la vuole catturare e usarla per alimentare il super Cortex Vortex che ha costruito nella sua stazione spaziale quando lo userà tutti gli abitanti della terra diventeranno i suoi schiavi senza volontà Crash non fargli avere i tuoi cristalli ok egy fazzo gli sta rivelando tutto ah si ora ora ci siamo scusami per l'interruzione Crash portami i cristalli arrivo? oh no che cacchio è questo? oh mio no aiuto eh ma come faccio a colpirlo? ma ah così ah vabbè dai allora che ce la faccio all'inseguimento Crash all'inseguimento ma proprio cosa col jet perché tipo la mia nemezi ah ma devo beccarlo? no ma sarà mica tipo un circuito ma mio dio oddio ma porca vigile non riesco a beccarlo eeeh e ciao è finito oh la l'ho colpito subito si qui beh ma quanto vai avanti però no 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 si incrociano le traiettorie non lo prendo ma porca miseria eeeh eeeh dai ma porca vacca eh no non lo riesco a beccare oh l'ha colpito subito dai ma porca miseria oh porca miseria ho colpito ancora si dai ancora una volta scendi ma no dai cacchio preso preso no no e invece si non ti hai ancora battuto Crash Bandicoot cosa avrà voluto dire Crash? che cosa pensi ti sia successo a Cortex? che cosa pensi del Cortex Fortus? sarà ancora lassù? e questo cos'è? ah è finito così va bene mi sono appena accorto che mi manca mi manca una gemma e quindi adesso andiamo a prenderla ok ok siamo arrivati in fondo al Unbearable adesso bisogna come stavo dicendo prima siamo arrivati in fondo al livello bisogna cercare di tornare indietro fino all'orsocchiotto e dovremmo essere trasportati nella stanza eccoci ok oh mio dio ma cos'è? di notte sull'orso oh mamma mia eh ciao eh salpiamo all'ultimo eh vabbè ok ok nooo come cavolo faccio qua? devo fare lo scatto forse se anche qua oh mio dio che cacchio ma alla cieca ok tutte saltiamo via qua oh ma che cacchio aiuto ok check point finalmente ma che porca miseria è tutto il buio non si capisce niente è un inferno? oh beccate si nooo ne ho lasciate dietro una prese tutte ok eh quella lì non la prendo mai però proviamo così ah devo passare di lì ma porco cane si ottimo dai dai che troce poi si nooo vabbè dai siamo qui ma porco dai che sento che l'arrivo è vicino ma puttana testa sinistra oh che cavolo nooo qua c'è a saltare ecco la vita ma porco giuda si ho preso il check point dai cacchio cacchio ma nooo oh cristo nooo eeeh l'ho dimenticata ancora prima o poi ce la farò ci l'ho presa adesso qua cosa ci sarà ce l'ho fatta? ce l'ho fatta? dimmi di si ti prego si ce l'ho fatta tutte le gemme eeeh e adesso? si certo me lo avevi chiesto e io l'ho fatto ma i cristalli non sono l'unico modo per catturare l'energia dei pianeti anche le gemme possono farlo con esse io posso distruggere il cortic corticlo ottimo sempre fatti trasportare nella mia installazione laser mmm eeeh 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 Ok, ci siamo. Questo è il gran finale. Spero ci sia un botto almeno. Eccole lì, tutte le gembe in fila. Guarda che belle. Che bellezza. Ciao, ciao. Bene, e qua si conclude la nostra avventura su Crash Bandicoot 2. Io sono Steve e alla prossima serie. Ciao a tutti.